La stagione concertistica internazionale organizzata dalla Fondazione Ivan Bruschi è arrivata alla sua 17esima edizione, la presentazione all'interno di Casa Bruschi. Abbiamo passato due anni veramente duri, difficili, ora è il momento delle riaperture, è il momento di ripendersi quello che abbiamo solo sospesso. Quindi la cultura e la nostra Casa Museo riveste il ruolo importante per la città, finalizzata e focalizzata sull'antiquariato, ma gli eventi che mette in mostra sono eventi che sono patrimonio della città, eventi culturali a tutto tondo. È un grande patrimonio secondo me. Sei concerti che saranno ospitati nelle sale di Casa Bruschi e che porteranno in città giovani musicisti di livello internazionale e vincitori di prestigiosi premi. Il primo concerto è in calendario il 9 di giugno. Avremo infatti Eleonora Armellini che è una pianista italiana, la prima che ha vinto il concorso internazionale Chopin, è riuscita a salire sul podio. Dobbiamo pensare che lo Chopin è il concorso internazionale più importante al mondo, quindi non è un concorso come gli altri. Arrivare sul podio vuol dire già essere un'eccellenza assoluta. E poi avremo Imi Kobayashi il 7 luglio che è in esclusiva per noi in Italia, anche lei vincitrice dello Chopin, è in esclusiva assoluta, solamente da noi viene a fare questo concerto. E poi abbiamo Hong Park che ha vinto il Busoni sempre l'anno scorso, concorso internazionale, quindi veramente un livello altissimo che solamente il Museo Bruschi riesce a garantire. Io vorrei ricordare che alcuni dei più grandi pianisti contemporanei come Trifonov hanno suonato da noi quando erano giovanissimi, che nessuno conosceva. E quindi veramente se qualcuno vuole vedere le star di domani deve venire qua.